ok salve a tutti noi sul mio canale oggi vi presento il metodo unico metodo migliore per effettuare la pulizia della punta del nostro saldatore quando il nostro stato si trova in questa condizione di di cui adesso si presenta con un grigio piombo quindi è opaco più diventa opaco e scuro minore la capacità di riscaldare lo stagno cosa importante se vogliamo ottenere una buona saldatura ho visto che molti utilizzano una grana come questa qui che questa 150 per pulire la punta ma è una cosa del tutto sbagliato perché va a graffiare la superficie e toglie una particolare attenzione a questi tipi qui di punte che sono importanti per avere un distacco più rapido dello stagno la soluzione migliore è quella di utilizzare queste spugnette che sono abrasive in acciaio vendono anche quelle specifiche ma vi garantisco che questi qui sono migliori con l'aggiunto di questo prodotto che è un diossidante per rame andrebbe bene anche il flussometro però quell'atto materiale costa un po di più e evapero facilmente questo qui invece no questo lo trovate nelle ferramente e si usa principalmente per saldare sul rame per fare le grosse saldature quindi come procediamo prendiamo uno di questi commenti che poi vi dico costa sui 20 centesimi 50 centesimi ne facciamo due io ho utilizzato un barattolo di omogenizzati per fare servizio prendiamo una bella tronchese e cominciamo a tagliare vi dico che ci vuole un po di tempo perché questa roba qui è in acciaio e staccarlo non è facile proviamo con la forbice uso la forbice che è meglio ecco qua eccoci qua basta anche solo la metà è inutile utilizzarlo per intero perché comunque la punta è piccola eccoci qua eccoci qua ecco un altro di barattolino e ne facciamo qua con la stampante 3d ho priorizzato anche di tappi da mettere sopra adesso come avuto di una stick di ligno andiamo metterci un po di questa roba qui qua su non ne serve tanto ne basta giusto un pochettino insieme a questa ok 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 è più e meno non è più ok 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 con l'aiuto di mostratore a dare caldo oppure potete usare anche il forno a asciugare i capelli andiamo a sciogliere a riscaldare questo materiale in modo che passa all'interno della matassina allora di soldi in passato mi bastava solo questo materiale qui con l'uso della punta cacciavite pulivo invece con questo sistema qui non ho bisogno di fare tutto questo adesso riscaldi saldatori faccio vedere ecco qua si scaldano di facciamo la prova vedete come era appunto basta fare questo ogni volta che dobbiamo lavorare o che abbiamo finito di lavorare con qua la punta pulita e possiamo salvare facciamo la prova anche da questo c'è un po di sangue qua ecco il metodo migliore per fruire la punta mi raccomando di lasciare un like e di iscrivervi al canale se lo avete già fatto a voi buona giornata grazie a tutti